mi avevano promesso le banane e mi avevano promesso invece mia techi le banane techi bastardi dove mi mettono le banane mia mi volevo mangiare due nocciolini e due banane e invece mi tocca fare la serva mi tocca mia chi e mi pagano i negri per decidere mi pagano perché tanto cosa ne frega gli altri ecco e mi non mangio mai niente devo sempre stare qui lava asciuga tutto per tutti i versi stupesci maledetti mia che cosa mi tu che fai ecco armeni venissano netti subito la prima volta invece non è diverso tutte le volte bisogna stare lì lavare le 10 volte e poi le banane se ne vedi una fino a marzo le volte mia ma non è una bagaglia né ma in una vita d'inferno mi stava tanto bene superparmare così i cocchi condividi i firmini armeni così e mi levano di chi